Buonasera da Filippo Brusa, benvenuti alla 53esima puntata di Bianco Rossi News. La nostra trasmissione compie un anno, era il 13 giugno del 2018, quando vi ho salutato per la prima volta da questi studi, con la speranza che il Varese, appena retrocesso in eccellenza, sarebbe poi tornato in Serie D. Purtroppo l'annata peggiore nella storia del club bianco-rosso mette ancora in pericolo la sopravvivenza del Varese. Se il Varese fallirà, se il Varese scomparirà, allora la prima squadra di Varese sarà la squadra di cui oggi abbiamo qui in studio una nutrita e significativa rappresentanza. Il Bosto. Alla mia sinistra c'è il direttore tecnico del Bosto, Dado Davide Giardini. Buonasera Davide. Buonasera. Abbiamo poi Michelangelo Epifani, che è l'artefice di questa vittoria. Il Bosto ha vinto ai play-off che fa il campionato di seconda categoria ed è prodotto in prima categoria. E qui alla mia destra invece abbiamo due atleti che sono significativi. Il portierone del Bosto, ecco Giacomo Marcon. Buonasera. E poi al suo fianco abbiamo la punta, l'attaccante del Bosto, che è Michele Carabelli. Buonasera. Bene, allora io direi di partire con questa maglia. Una maglia bellissima, perché è la maglia celebrativa di questa stagione molto bella del Bosto. Vedete Bianconiglio, personaggio di Alice nel paese delle meraviglie, insomma, nella versione della Disney, che suona l'ora della prima categoria. Scusate la fretta, la prima ci aspetta. Allora, beh, innanzitutto complimenti per questa vittoria. chiedo subito a mister Michelangelo Epifani, insomma, di illustrarci quali sono state un po' le tappe che vi hanno portato a questa promozione, che è la seconda promozione di fila. Ricordiamo che il Bosto aveva vinto l'anno scorso il campionato di terza categoria. Ora ha vinto anche attraverso i play-off la seconda categoria e in prima categoria. E questa società esiste... Da due anni? Solo da due anni. O meglio, è una società parallela a quella che già esisteva, quindi, di US Bosto, puro settore giovanile. Due anni fa nasce questo progetto, un progetto che nasce perché si voleva dare sfogo ai nostri bimbi che crescevano appunto in questa società per poi arrivare all'ultimo anno di allievi e lì a un certo punto le acque giustamente si dovevano dividere. Nasce appunto questo progetto per continuare a dare la possibilità a questi ragazzi di giocare nella stessa società dove poi fondamentalmente sono cresciuti, sono nati e i ragazzi loro sono partiti l'anno scorso vincendo il campionato di terza categoria. Io un anno fa sono stato chiamato per continuare questa avventura, ci ho messo poco a decidere e a dare appunto la mia disponibilità e oggi dico che ho fatto assolutamente bene, sono orgoglioso di allenare in questa società, sono orgoglioso di allenare ragazzi che conoscevo già da diversi anni, voglio aver visti proprio crescere. Sì, ricordiamo che lei allenava appunto nel settore giovanile del Bosto, poi ha avuto anche tante altre esperienze al di fuori del Bosto, poi sono tornato, ripeto, ribadisco, soprattutto per il progetto e soprattutto per continuare ad allenare questi ragazzi. voglio precisare che il 90% della prima squadra è composta da ragazzi nati calcisticamente nel Bosto, qui abbiamo un esempio con Michele di qualcuno che è riuscito ad integrarsi molto molto bene, anzi direi con lo spirito che questi ragazzi, cioè mancavano qualcosa da questo punto di vista, perché forse perché loro troppo amici, troppo legati, c'era bisogno che qualcuno da fuori venisse e portasse l'esperienza in maniera positiva e Michele è in quella piccola percentuale che secondo me ha contribuito in modo molto 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 importante a vincere questo campionato. Ecco esatto, il gruppo fra l'altro è molto unito, l'ho visto anche nel fuorionda di prima, insomma c'è anche un bellissimo rapporto fra i ragazzi, il direttore tecnico Davide Giardini, appunto mister Michelangelo Epifani faceva riferimento proprio a Michele Carabelli che è cresciuto, un attaccante che è cresciuto in Piemonte, non nel Bosto, però si è integrato subito, giusto? Intanto ringrazio il mister per le parole e voglio dire che per me è stato semplice integrarmi in questo gruppo perché più che un gruppo è una famiglia, loro sono tutti uniti, tutti amici e per quelli che arrivano da fuori è stato molto semplice integrarsi. è stata una bella annata come quella dell'anno scorso, quest'anno un po' meglio perché ci siamo divertiti di più rispetto all'anno scorso e abbiamo imparato tanto, io ho cercato di portare la mia esperienza, spero sia servita e spero di far crescere questi ragazzi che sono giovani nel miglior modo possibile. Quanti anni ha Michele? 33. 33 anni, mentre più giovane il portiere, il portierone Giacomo Marcon, che è un prodotto del Bosto, giusto? Sì, io ho fatto tutto il settore giovanile al Bosto fino all'ultimo anno di allievi, 95. 24 anni quest'anno? Sì, e niente dopo aver finito gli allievi ho fatto 5 anni con la Belfortese, appena c'è stata la possibilità sono stato felice di tornare nella società che mi ha cresciuto calcisticamente e non, anche perché come tanti miei compagni reputo il Bosto come una seconda casa, una seconda famiglia. Quanti gol ha preso quest'anno? 37. E quanti gol ha segnato Michele? 11, tutti decisivi. Tutti decisivi. Bene, allora vediamo, veniamo a Dato che è il direttore tecnico insomma di questa realtà. Esagerati. È un po' insomma l'anima, c'erano dei saluti da fare, a Luigi Troger che è un nostro caro amico, ma anche a Presidente Osvaldo Tonelli e a Vice Presidente Mauro Brattesani che per motivi lavorativi non possono essere presenti, però è giusto il dovere. Grazie per aver accettato il nostro invito perché insomma quest'anno è stato l'anno peggiore del calcio a Varese per quanto riguarda il Varese, ma il Bosto ha tenuto alti insomma i colori della città insomma scrivendo delle belle pagine. Fra l'altro qua ho le maglie del Bosto, come potete vedere i colori sono quelli classici, sono quelli giallo blu. Questa è una maglia molto bella, anche lo stem è molto bello, ricorda un po' quello del Barcellona. Vedete insomma queste due maglie sono due maglie molto belle, ma il Bosto è qualcosa che comunque è sempre una società che è sempre stata legata ai colori bianco-rossi o questa lettera che risale, questa sì a 35 anni fa, pensate, era, vedete c'è l'intestazione Varese Calcio che era un SPA, US Bosto era un SRL e era indirizzata a me, infatti dice caro Filippo ecco per te una grande novità, il Varese Calcio e l'US Bosto ti offrono l'occasione di praticare lo sport più bello del mondo, il gioco del calcio. Insomma una volta il Bosto reclutava così i ragazzi, era un modo molto bello per avvicinare i ragazzi al calcio, grazie comunque, scusa la nostra invadenza, addirittura chiudeva, era questa la formula conclusiva di questa lettera che iniziava ricordando i grandi nomi che erano partiti dal Bosto, Luca Pellegrini, Bruno Limido, Gildo Salvadè, Angelo Orlando, Davide Pellegrini insomma e tanti altri, poi c'era un modulo da compilare, da portare personalmente al Bosto e non l'ho mai compilato con grave documento per il calcio italiano perché sarei potuto diventare un grande campione del calcio italiano con il Bosto. No, questo per dire Davide insomma il Bosto è sempre stato un po' il serbatoio del Varese per quanto riguarda il vivaio. Avete una società parallela che ha vinto già due campionati, dove volete arrivare? Ma diciamo che, allora innanzitutto ringraziamo per le belle parole spese a favore della società come diceva Giacomo ci reputiamo sì una squadra che fa calcio ma in prima battuta vogliamo che i bambini e i ragazzi della prima squadra si sentano come a casa. Abbiamo tantissimi bambini dai tre anni noi abbiamo dei progetti con i bambini di quell'età, lei fino a due anni fa che abbiamo creato la prima squadra con i grandi. Quello che ci riserva al futuro non lo sappiamo, di certo noi vogliamo che il nostro progetto diciamo legato alla prima squadra prosegua con gli stessi ideali, la stessa filosofia con la quale è nata la prima squadra. Quindi come diceva prima Michelangelo con l'intento di dare uno sbocco di creare un proseguio a quella che è stata l'attività che hanno svolto i ragazzi dai 3, 4, 5, 6 fino ai 16, 17 anni. Quindi la natura e lo spirito con cui è nata questa squadra deve restare questo e questo resterà. Poi dopo è ovvio che se saremo e saranno bravi i ragazzi a dimostrare sul campo quello che valgono, noi di certo non ci poniamo limiti o ostacoli, se riusciamo a superarli perché no? Esatto, è sempre stata molto affascinante la vostra sede di via Torquato Tasso a Capolago dove c'erano tanti bambini, abbiamo sempre visto tanti bambini però appunto da due anni c'è la prima squadra. Prossimo campionato di prima categoria come se lo aspetta mister? Sicuramente impegnativo, conoscendolo perché l'ho già disputato con altre società qualitativamente anche di livello superiore quindi come dico spesso la sticella va alzata però ci stiamo già muovendo, ci siamo già secondo me pronti pochissimi ritocchi perché poi quello è l'obiettivo primario della società cioè i ritocchi vengono fatti con ciò che noi costruiamo quindi una cosa che va sottolineata che la prima squadra nasce due anni fa ma l'anno scorso nasceva in questo periodo la Juniores composta interamente da ragazzi che venivano fuori dagli allievi e quest'anno la Juniores ha raggiunto un ottimo obiettivo che è il secondo posto a un punto dalla vincitrice quindi per poco non siamo riusciti ad avere anche una Juniores regionale ci riproveremo sicuramente quest'anno con l'annata 2002 che andrà a integrare i già bravi componenti della Juniores e così si va avanti quindi stiamo integrando, prepariamo i 2002, 2001 e 2000 per la prima squadra per farli disputare questo campionato di prima categoria e con l'aiuto dei vecchietti cercheremo di farli crescere come ne hanno fatto quest'anno questo è il nostro obiettivo principale non è nostra intenzione andare in giro per la provincia a chiedere di venire a giocare per noi anche se poi è qualcuno che chiede a noi se c'è la possibilità di venire a giocare ecco ripeto, il giusto però l'obiettivo è sempre con i nostri però chiedo a Davide Giardini l'obiettivo, avete anche un po' l'ambizione di raggiungere avete già un po' ingolusito da queste due promozioni consecutive la terza, la promozione diciamo che sicuramente non bisogna fare il passo più lungo della gamba quindi quello che è stato fatto negli ultimi due anni negli ultimi due anni è stato sicuramente importante e non deve passare sotto traccia ma deve essere sicuramente valorizzato è ovvio che più si va avanti nelle categorie più i complessi e i discorsi diventano più complicati quindi sicuramente come diceva Michelangelo noi vogliamo proseguire con la nostra idea con la nostra filosofia e poi dopo quello che viene di certo non ci tiriamo indietro poi nessuno sa quello che può succedere in campo la palla è rotonda vedremo, vedremo vorrei coinvolgere il portiere abbiamo Giacomo allora Giacomo è un'annata bella un'annata insomma vincente chiusa con la promozione e fra l'altro che cosa si prova insomma a giocare nella prima squadra del Bosto dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile del Bosto innanzitutto qualche anno fa non c'era ancora la prima squadra del Bosto lei non si sarebbe mai aspettato di vedere una prima squadra del Bosto se l'augurava ma sicuramente me l'auguravo anche perché avendo chiuso un ciclo con gli allievi se ne ha aperto poi un altro concluso sì anche positivamente però giocare nella prima squadra nella società in cui si è cresciuti è un'altra cosa e vincere è ancora più bello sentire addosso sentirsi cucita addosso la maglia che si porta secondo me è una cosa molto importante io sono veramente felice di rappresentare la società entrando in campo ma anche come allenatore del settore giovanile e questo mi interessa anche questo aspetto di allenatore del settore giovanile insomma se ci può sì io alleno una squadra di esordienti nel 2007 e inoltre alleno varie categorie di portieri e questo da 5 anni a questa parte e sono molto contento anche di poter trasmettere il mio attaccamento i valori che il Bosto mi ha dato con la crescita sia sportiva e non ai ragazzi che alleno e questa è una cosa molto bella secondo me che faccio io come fanno tanti altri ragazzi della prima squadra ecco che cosa serve a un portiere al di là chiaramente della tecnica e insomma del bagaglio tecnico che non deve mai mancare ma dal punto di vista anche mentale perché è un ruolo anche legato molto alla testa assolutamente sì ci serve fiducia in se stessi e capacità di reagire agli errori sicuramente questo è molto importante per il ruolo che svolgo diciamo così mentre per un attaccante che cosa è indispensabile lo chiedo appunto a Michele i piedi i piedi la testa anche la testa qual è il cavallo di battaglia di Michele insomma dov'è più forte destro, sinistro, testa? boh secondo me dove vedete un mister però lo metteresti in difficoltà secondo me qual è il gol più bello di quest'anno? più bello io secondo me il più importante contro Ceresium così si chiama Ceresium sono entrato il mister mi ha tenuto fuori per scelta tecnica niente sono entrato al settantesimo penso giusto eravamo sul punteggio di 2 a 0 per loro e l'abbiamo ribaltata 3 a 2 a 20 minuti dalla fine che secondo me è stata fondamentale per per le altre partite quelle che venivano dopo ci ha dato molta carica per arrivare a fine in fondo secondo me persa con la partita facevamo più fatica ad arrivare dove siamo arrivati ed era una svolta fondamentale che era un recupero in settimana alla sera quello secondo me è tutti e due comunque molto importanti e mi sono piaciuti bene grazie e mister mi ricollego con quello che ha detto Michele insomma il fatto che non era era partito dalla panchina quella volta Giorgio Roseli che è un grande ex allenatore del Varese che ha conquistato una promozione in C1 con il Varese ma anche una salvezza insperata nella stagione 2002-2003 diceva che riconosci quando è l'annata giusta si riconosce dal fatto che i giocatori della panchina al posto di contrariarsi per essere fuori per non essere in campo quando la squadra segna gioiscono più degli altri giocatori insomma e quindi partecipa non una partecipazione massima condivide ci parli di questo gruppo meraviglioso condivido e qua diventa molto semplice per le cose che abbiamo detto fino adesso quindi essendo una grande famiglia diventa complicato per me fare delle scelte prima della gara però comunque ti rendi conto durante la gara e dopo la gara che qualsiasi decisione poi prendi viene rispettata e per assurdo soprattutto nell'ultima fase nelle ultime partite di campionato e quella dei playoff parlo degli ultimi due mesi la risposta che ho avuto dal gruppo soprattutto da chi ha giocato poco e entrava a partita in corso è stata è stata notevole credo che loro parliamo di titolare in questo caso nelle ultime delle ultime partite scuso Michele che ha avuto dei problemi fisici proprio nelle ultimissime l'abbiano recepita questa cosa entravano dei ragazzi a dieci minuti dalla fine e davano un contributo notevolissimo quindi questo è un ennesimo motivo d'orgoglio che bene quindi tanto di cappello al mister complimenti per il lavoro che ha fatto complimenti ai suoi ragazzi e ovviamente complimenti anche ai dirigenti ben rappresentati qui da Dado Giardini vorrei però riprendere in mano questa maglietta che porta il vostro stema lo stema ricorda un po' quello della Varesina e ricordiamo che la Varesina quando è stata fondata è stata promossa ha collezionato una serie di promozioni dalla terza categoria fino alla serie di quindi insomma è sempre stata promossa ogni anno insomma adesso vi magari farete gli scongiuri perché la domanda che vi voglio fare appunto riprendendo oltre appunto allo stema che è simile a quello della Varesina che qui potete ben vedere riprendo anche appunto il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie insomma Alice entra nel Paese delle Meraviglie perché insegue il bianconiglio allora Davide Giardini Alice se il Bosto fosse Alice quale meraviglia si aspetta insomma è possibile ripercorrere insomma i fasti della Varesina che dalla terza sono passati alla serie D è molto difficile ma ci proverete so che siete ambiziosi sicuramente se abbiamo deciso di fare una prima squadra due anni fa è perché credevamo e crediamo nelle potenzialità che poteva che può avere questa società e questi ragazzi quindi sicuramente non abbiamo degli obiettivi che non sono di certo non possono essere ambiziosi come quelli della Varesina per evidenti diciamo motivi economici non abbiamo per nostra sfortuna quelle potenzialità però cerchiamo di certo di costruire delle basi solide per un progetto che possa autogestirsi autofinanziarsi senza senza grosse difficoltà e come lo facciamo cercando di costruire dei ragazzi dei giocatori che possano e che abbiano la voglia di giocare per come diceva Giacomo per la squadra nella quale sono cresciuti calcisticamente umanamente nella quale hanno stretto delle relazioni forti come come sono stati il gruppo dei 92 e dei 95 che sono diciamo i due gruppi che hanno in primis trainato e spinto per la creazione di questa società e c'è da dire che questo questo forte sentimento questo forte senso di appartenenza lo si rivede poi anche negli ultimi gruppi che sono usciti nel 2001 nei prossimi 2002 e questa è sicuramente la cosa su cui noi vogliamo costruire su cui noi vogliamo gettare le basi per quello che sarà il futuro la cosa che è stata sicuramente bellissima e penso dal campo si sia vissuta con particolare entusiasmo e partecipazione è stato il forte seguito che hanno avuto le partite di playoff soprattutto in casa da parte del settore giovanile quindi c'è stata grande partecipazione da parte dei ragazzini dei bambini del settore giovanile sia quelli più grandi che possono essere più interessati nel breve periodo ma anche quelli più piccolini che comunque hanno sostenuto hanno partecipato e si sono emozionati con tutti i ragazzi della prima squadra beh questo vuol dire che il Bosto è sempre una famiglia insomma come lo era lo è sempre stato per quanto riguarda il settore giovanile lo ha anche adesso e unisce il settore giovanile a prima squadra mister allora ripercuriamo un po' le tappe tre momenti di quest'annata tre momenti che il mister si porta dentro di questa cavalcata dalla seconda alla prima categoria presentazione della squadra lo scorso luglio sicuramente perché ero molto molto emozionato poi ne ricordo tantissime se ne devo scegliere altri due dico il primo giorno di preparazione è l'ultima giornata di campionato neanche neanche l'ultima dei playoff come mai proprio l'ultima e non i playoff perché lì ti rendi conto lì hai le sensazioni e la mia era quella super positiva sapevo che da lì a poco avremmo riscosso quello che che si meritava questa squadra questa società bene ragazzi quello che avviene nello spogliatoio è sempre difficile da portare fuori però se avete qualche aneddoto che volete condividere con i telespettatori di Bianco Rossi News c'è forse Michele che chiedeva il microfono o no? No, Michele con lo spogliatoio ma guarda ce ne sarebbero veramente tante a raccontare un episodio che questo momento forse no dai vogliamo portare quello che è successo alla festa dopo la vittoria di playoff dove abbiamo tagliato la barba al nostro compagno e i capelli al nostro accompagnatore uno dei tanti bei momenti in seguito a vittoria dell'annata questo forse Antonelli Luca Antonelli era barba al nostro compagno Stefano Ghiringhelli e niente sono questi momenti della festa Michele vuole aggiungere qualcosa detto tutto Jack in spogliatoio non è successo mai niente tutto perfetto mister ecco si riguardo lo spogliatoio io lo vivo in maniera di staccata per come hanno ospitato i ragazzini i giovani diciamo nel gruppo inizialmente credo che vabbè poi sono cose dello spogliatoio quindi rimangono all'interno dello spogliatoio la loro bravura è stata anche nello scherzo nel gioco riuscire a integrare queste queste personalità ecco diciamo così bene grazie per essere stati con noi vorrei chiudere con una battuta del direttore tecnico Davide Giardini che cosa ci auspichiamo e quale messaggio lanciamo ai varesini che ci vogliamo vedere divertire l'anno prossimo con il Bosto e poi del futuro chissà bene allora chiudiamo con questa sospensione ma sicuramente a Bianco Rossi News seguiremo il Bosto e saremo sul campo non vediamo l'ora di andare a Capolago a seguire questi ragazzi grazie a tutti grazie a voi per l'attenzione all'appuntamento e a settimana prossima con la prossima puntata di Bianco Rossi News grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti